Ciao ragazzi, allora se proviamo a mettere a confronto quelle che sono le convinzioni di molte persone, dei proprietari dei cani, lui ormai si è già piazzato qua praticamente, io come, ecco esatto, perfetto, bravo, ecco, però se tu ti metti in primo piano non riusciamo a fare niente, pazienza alla coda però. Allora dicevo, se voi riuscite a mettere a confronto quelle che sono le credenze di molte persone quando adottano un cane senza la cultura cinofila necessaria e poi cosa accade dopo nella storia tra cane che cresce e proprietari che insomma si sono fatti delle aspettative, vorrebbero ottenere determinati risultati, vi rendete conto che c'è qualcosa che non funziona, perché da un lato siamo tutti un po' vittime di questa cultura cinofila voluta dal consumismo e nello stesso tempo di quella che ci hanno trasmesso e tanti non ne hanno altra, con i film, della tv, del cinema, eccetera, eccetera. Dove noi prendiamo un cucciolo di qualsiasi razza, ce lo portiamo a casa e lui solo perché è un cane ci amerà per tutta la vita e non solo, capirà tutto quello che noi gli diremo, ci creerà, ci porterà gioia in famiglia, ci darà solo delle soddisfazioni e non ci creerà mai dei problemi. Questa è un po' la cultura cinofila che in questi ultimi 20-30 anni specialmente si è voluta diffondere, perché ci sono industrie che producono mangimi, quindi più si adottano cani meglio è. Ci sono ormai migliaia di allevatori che non hanno bisogno che chi cerca un cane gli vengano dei dubbi. Ti piace un cane, te lo prendi, te lo porti a casa, c'è solo una regola, prendilo piccolo cucciolo perché lui crescerà con te e vivrete tutti felici e contenti. Però dobbiamo confrontarlo con la realtà. Quanti cani poi aggrediscono il padrone? Ogni tanto ve lo dico, sono 50.000 le persone che vengono uccise dal proprio cane nel mondo, non sono poche. Sono più di 50.000 ogni anno le persone che vengono aggredite dai loro cani in Italia. Sono migliaia ormai quei professionisti che di professione cercano solo di recuperare il rapporto fra proprietario e cane per tanti problemi, perché la maggior parte delle persone hanno adottato un cane, doveva andare tutto bene, poi non va niente bene. Si parte dalle cose più banali, le persone ritorno a casa, il cane le ha mangiato tutti, i mobili, il divano, eccetera, eccetera. Ha cose più serie, cioè proprio non riuscire a gestire il cane, non riuscire a portarlo in passeggiata, non riuscire a calmarlo su aggressioni che il cane ha nei confronti di tutti, specialmente a volte anche nei confronti degli animali, senza andare poi a vedere quelle con i familiari. Allora specialmente in quelle domeniche dove tante persone si attaccano ai social e non hanno nient'altro da fare, si prova con i commenti a dire di tutto, qualsiasi cosa accada ognuno ha qualcosa da dire. Ma è invece molto interessante riuscire a creare questo confronto. Quindi da un lato sembra che quando io prendo un cane devo solo seguire un segreto, quello di prenderlo cucciolo, non farmi nessun altro problema, solo amarlo, volargli bene e dopo entra tutto perfettamente e poi tutti gli anni aumenta l'elenco dei professionisti che fanno i comportamentalisti. Si stanno studiando e sono sempre più diffusi i farmaci da somministrare quotidianamente ai cani per renderli più compatibili con la realtà nella quale sono stati messi. I canili sempre più pieni, SOS ovunque, tant'è che si crede che la soluzione sia non far riprodurre più i cani per non avere i canili pieni. Quindi da un lato c'è veramente solo una cosa da rispettare per molti, prendere un cucciolo, volerli bene, nutrirlo e andrà tutto perfettamente. Dall'altra più i cani aumentano e stanno aumentando sempre di più e più ci sono i disagi. Questo è il motivo per il quale ho cercato di mettere insieme in cinque ore abbondanti di videocorso la strada che bisogna fare per riuscire a scegliere il cucciolo idoneo o il cane idoneo per le proprie necessità. Che secondo me è il primo passo. Io mi sono occupato in questi anni di risolvere tanti problemi, di dare la cultura cinofila necessaria a molti studenti che mi hanno seguito, ho creato di professionisti eccetera. Ma una cosa che veramente mi sono reso conto è che la maggior parte di questi problemi se le persone, le famiglie avessero preso il cane idoneo alle loro necessità, non è che chi abita in appartamento, chi abita in una casa singola col giardino può alzarsi una mattina a prendere qualsiasi tipo di cane. Non è che chi vuole un cane comodo da portare in passeggiata nello stesso tempo può anche chiedergli di fare la guardia a casa, di essere un cane che fa di fare altre mansioni eccetera. Cioè ci sono tante cose da sapere ancora prima di studiare cultura cinofila, ancora prima di pensare come organizzarsi poi a gestire il cane. Sono quelle di capire cosa bisogna fare per poter scegliere il cucciolo idoneo alle nostre necessità. Allora questo è un videocorso che secondo me fra tutti quelli che ho fatto è il più utile in assoluto. L'avevo già detto sul videocorso come crescere un cucciolo e renderlo affidabile in famiglia ma questo ho ancora fatto un passo indietro, prima ancora che portino a casa il cucciolo. Cerchiamo di capire i cani come sono e io in questi giorni cercherò di spiegarvelo diciamo in modo superficiale perché è ovvio che con il videocorso in queste cinque ore scoprirete un po' tutti i segreti ma specialmente non farete tutti gli errori che fanno in molte persone. Ce ne sono dieci gli errori che bisogna evitare di commettere e molti continuano a commetterli ed è il motivo perché ci sono sempre più disagi. Quindi qui a legato vi ho messo tutte le spiegazioni tra l'altro solo fino a il 23 di dicembre l'antivigilia di Natale lo pagate 297 invece di 497 ma già 497 se pensate l'aver acquistato un cucciolo rapidamente quante spese vi crea poi quanti disagi anche 497 non è niente per i vantaggi che vi porterà questo videocorso. Quindi seguitemi in questi giorni vi vorrò spiegare un po' tutti gli errori più comuni, tutte le considerazioni più che gli errori che le persone fanno e ai quali invece non bisogna dare la minima affidabilità. Bene, vi ringrazio anche oggi per avermi seguito e vi auguro a tutti buona giornata. A presto!